Audio Jungle Una delle tecnologie a nostra disposizione per la diagnosi delle carie è il Diagnocam. Spesso le carie non sono visibili né all'occhio nudo né radiologicamente. Il Diagnocam è una luce laser a fluorescenza che ci permette di diagnosticare anche in fase precoce le carie. Un po' come un iceberg si sviluppa in profondità, anche la carie nel 90% dei casi si sviluppa in profondità ed è non quindi visibile. Questa tecnologia invece ci permette di fare una diagnosi precoce e quindi poter intervenire con minore invasività. Qui vediamo un dente dove apparentemente non è visibile nulla, ma il Diagnocam ci permette di vedere in profondità una macchiolina nera che corrisponde a una carie nascosta. Audio Jungle Grazie a tutti i nostri spettatori